Amici di Youtube, vedete e poi ritorno, ok? Per questo io vi dico sempre contattatemi su Whatsapp. Amici, come avete visto, Cagliari ha il sesto colpo di gioco a posizione e è stato normale anche, con il numero 1, che l'è stato giocato con l'inestratto, 1 e 10, l'estratto 1, accolto per l'ingranto, contattatemi e vincete. Niente l'estratto, niente lampa, niente interno, adesso è piaciuto l'estratto, ma se l'hanno giocato quelli che vi piacciono gli estratti, quelli che non gli piacciono gli estratti non li do, do direttamente in ambo all'interno. Eppure quelli, i restanti dei amici gruppo Whatsapp vinceranno nei prossimi gruppi e vedrete Alfi Termi vinti e altri ambi vinti. Contattatemi intanto su Whatsapp e vincete tutti voi il canale di Youtube. Bacioni e buona serata. Ciao!